il vento è finito l'esame adesso è finito c'è comparsi di quadri non so che devo fare attento sia aperto quella porta l'esame per me è un po' molto strano sta un occhio che ci sta questa ragazza e tutti quanti che lo sono arrabbiati guarda tutti felici con occhio e questi due faccini così questa è la morte perché è morta la ragazza non 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 ma libri ora ci stanno niente c'è scritto qualcosa? allora di qui stanno delle stelle penso qui sarebbe stato il cielo non vedo nessuno il stile oh mio dio disegno dei cerchi dove sono dipinti chiaramente oddio si sono si sono illuminate si sono illuminate adesso adesso è stranissima molto stranissima molto stranissima è stranissima è stranissima è stranissima la cosa è stranissima è stranissima guarda le stiglie guarda in su E' parte l'amuso, così si è morto. Grazie a tutti. Oh merda, che è successo? Oddio, guarda. Non ho fame. Scusate, non ho fame, non ho fame. Non mangia. Non ho fame. Non ho fame. Ma non ho fame. Non ho fame. La morte è nera, la felicità è d'oro, la solitudine. La morte è nera, la foca è nera, la pennella. attivate vai allora qua viene schiacciato quindi sarebbe l'odio che cos'è è bronzo l'odio poi la felicità salire del dono vedete come i seri sorridono questi qui qui penso alla morte aspetta allora la morte è niente alla felicità del cuore che 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 è che è più morte e il troggio di morte ha qui è venuto una buccia c'è da soli dobbia che non ci sono pieni sui Grazie a tutti. 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 Speriamo che vi siete divertiti con me e ciao.